Ciao a tutti, nel video di oggi, Vittoria, prima di andare a Nanna, prova ad andare a mangiare alla piccola Mati, che non è buone proprio sentirsi svegliarsi. Poi, si mette a colorare un disegno. Vi lascio al video, buona visione. Vuole darle la pappa. Mati, bravo. Ciao, gliela metti qua, ok. Le dai anche un bacino? Daglielo sulla testina. Bella, brava. Mi è piaciuto? Daglielo, ciao. Daglielo, 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 brava, brava. No? Tardi. Andiamo, fa la Nanna, cuniglietto? Dai, vieni che ci soffiamo il nasino. Vitto, dobbiamo andare a fare la Nanna, ma cosa stai facendo? Cosa fai lì? La Nanna. La Nanna? Intanto, Chiara mostra la nuova collezione di gioielli che gli ha mandato Louis Vuitton. Ciao, ragazzi. Today I'm wearing all Louis Vuitton with all the new jewels, the vault collection. This is the bracelet. These are some of the rings from the vault collection, the necklaces and the earrings as well.